Insomma Alessandro Patrizzi e insieme al collega Marco Mangiani eravamo in Sardegna presso un impianto per l'archivico perché il cliente ci ha chiamato in quanto lamentava una polarità di batteri a terra quindi l'UPS segnalava una polarità di batteri a terra in realtà per motivi di sicurezza di impianto il neutro di quel cliente non è a terra ma ci siamo accolti facendo un'analisi che aveva una fase a terra il che poteva provocare questo tipo di allai gli abbiamo dato supporto per aver cercato del problema e ci siamo accorti che aveva una profumiera con infiltrazioni d'acqua dopo di che diventano soltanto sostituendo la profumiera e il problema è entrato quindi quello che apparentemente sembrava un problema di UPS in realtà era un impianto e devo dire che ci hanno ringraziato molto perché gli abbiamo dato un porto a noi e gli stai Grazie.